Ecco Antonello che fa il guado, che è manco uno dei più difficili, ha detto che devo chiacchierare, io sono finito, non ci voglio manco di chiacchierare, è rimasto bloccato da quell'altra macchina. Ecco ora ce l'ha fatta. No, ci si è messa la macchina un più dietro, non ce la fa passare. Si, ecco, ecco. Sì, non lo so, non lo so. Grazie a tutti.